Ciao a tutti. Benvenuti sul mio canale. Oggi parliamo di Natalia Paragoni e di un video che ha fatto parlare parecchio. Natalia è una mamma influencer molto attiva sui social. E di recente ha condiviso un momento davvero tenero con sua figlia Ginevra e il loro adorabile cane Gigi. Ma ciò che ha scatenato una certa discussione tra i suoi fan è stato il comportamento di Gigi. Rimani con noi per scoprire tutti i dettagli. Nelle ultime ore, Natalia Paragoni ha condiviso un video sui suoi social in cui si trovava sul letto insieme a sua figlia Ginevra e al loro cane, Gigi. Le immagini erano davvero adorabili e mostravano il legame speciale tra loro tre. Tuttavia, il comportamento di Gigi ha fatto sollevare alcune domande e critiche. Il cane sembrava interessato a Ginevra e in alcune occasioni ha cercato di baciarla sul viso. Natalia è stata pronta nel proteggere sua figlia. Ma ciò non ha impedito che alcune persone manifestassero preoccupazioni. Hanno sollevato il dilemma se fosse giusto consentire a un cane di avvicinarsi in quel modo a un neonato. Temendo possibili rischi per la salute del bambino. Se questa storia ti ha incuriosito e vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime novità e discussioni intorno a Natalia Paragoni e altri argomenti interessanti, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale YouTube e a seguirci sui social media.